Ciao, io sono Mara e io sono Mattia e insieme siamo Altro Sguardo. Noi come Altro Sguardo nasciamo nel 2009, però il nostro all'inizio era un progetto non dedicato ai gioielli, era un progetto di tipo più artistico con una finalità di recupero. Quello che volevamo fare era partire da vecchi oggetti dismessi, che avessero però una forte memoria collettiva e trasformarli, dandogli una nuova vita in complimenti d'arredo che avessero comunque ancora una funzione. Poi ci siamo appassionati, ci è venuta anche l'idea di lavorare sul gioiello e quindi nel 2015 abbiamo cominciato a pensare ad una collezione. Sì, negli anni precedenti lavoravamo già il legno come nostro materiale, diciamo, preferito e quindi abbiamo pensato perché non fare anche dei gioielli in legno pregiato, quindi in legno non più legato al recupero, come facevamo prima, ma proprio queste essenze così diverse una dall'altra e particolari per i loro colori e venature. E quindi abbiamo detto proviamo e nel 2015 è nata la prima collezione che si chiamava Archetipa. L'abbiamo presentata nel 2016, la particolarità era che appunto lo stile non era etnico come si era abituati a vedere normalmente il gioiello in legno, ma più contemporaneo e questa è stata sempre un po' la nostra prerogativa. Da lì ci siamo appassionati al gioiello, abbiamo cominciato ad introdurre altri materiali di lavorazione, in particolare metalli, ottone principalmente e argento e non ci siamo più fermati. Quello che ci caratterizza, ci ha sempre caratterizzato fin da subito, è il fatto di non focalizzarci solo su un tipo di prodotto. A noi la creatività è sempre piaciuta intesa come ampio respiro, quindi ci piace spaziare molto, a volte ci vengono delle idee per realizzare dei gioielli, altre volte può essere una lampada, un complemento d'arredo, quindi lasciamo ampio spazio alla nostra fantasia. Alle possibilità. Ed è la cosa che ci piace di più forse del nostro lavoro. Adesso vi facciamo vedere il nostro laboratorio, quello su cui stiamo lavorando adesso, in questi giorni, quindi ci spostiamo all'interno. Qui siamo all'interno del nostro laboratorio, dove facciamo alcune delle lavorazioni un po' più pesanti, e da questa parte vi volevamo mostrare ciò su cui stiamo lavorando in questi giorni. Sono anelli in legno, come vi avevamo detto, sono diverse essenze su cui stiamo lavorando, ognuna con la sua particolarità, e anche gli anelli hanno dei modelli tutti diversi, sono da uomo o da donna, fatti tutti interamente a mano, ed è quello su cui appunto abbiamo lavorato negli ultimi giorni. Per noi è importante in questo periodo riuscire a mantenere vive le nostre passioni, quindi stiamo dedicando del tempo anche alla musica e ad altri aspetti della nostra vita non lavorativa, e nello stesso tempo portiamo avanti il nostro lavoro continuando a sperimentare e a mantenere vivo il contatto con i materiali e i progetti che avevamo lasciato da parte. Sì, è importante per noi avere una dimensione progettuale in tutto questo periodo, quindi quello che ci fa stare bene è pensare anche a come evolvere. Siamo convinti che comunque gli artigiani, i creativi in generale, abbiano in sé il seme dell'innovazione, la capacità di superare momenti anche imprevisti come questo, per cui siamo fiduciosi. Sì, volevamo ringraziare anche Betta e Rosa di Terrerare per averci dato l'occasione di fare questo breve video. È un contatto che abbiamo il piacere di fare perché appunto in questo periodo abbiamo sentito diverse persone con cui nel tempo abbiamo sviluppato un'affinità che va oltre il lavoro e il fatto che ci abbiano chiesto di fare questo video insomma ci ha fatto molto piacere. Sì, stiamo sentendo tanti colleghi con cui abbiamo sviluppato dei rapporti in questi anni ed è bello riscoprire dei rapporti che prima erano solo magari in certi momenti, in certi contesti, di fiere e quant'altro, invece adesso ci si sente quasi quotidianamente per scambiare opinioni e punti di vista e questa è una cosa bella nonostante tutto. È una cosa bella perché si fanno riflessioni sul futuro e anche come cogliere questo momento per avere l'opportunità di cambiare anche qualcosa, no? E quindi c'è questa visione, questa speranza che si possa agire anche in questo senso. Quindi dai, non vediamo l'ora di rincontrarvi tutti dal vivo quindi salutiamo di nuovo Betta e Rosa di Terrerare e siamo sicuri che ci vedremo presto. Forza, teniamo duro e... Teniamo duro sempre. A presto. Ciao. Ciao.